ancora in queste ore e finisco abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la campania per fare un po di demagogia è arrivata perfino davanti all'ospedale ruggi di salerno una comitiva li avevano scambiati per profughi afghani poi più si avvicinavano che sembravano parcheggiatori abusivi venditori di cocco poi hanno visto che erano esponenti politici tutti rigorosamente con la camicia fuori dei pantaloni alla loro guida quello che sembrava il leader diciamo dei venditori di cocco quello della portineria gli ha detto ma che volete fare i parcheggi sono già gestiti il cocco potete vendere che 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 volete poi si è accorto che quello che era in testa aveva un catenone al collo e una croce di legno e li avevano scambiati per gli assistenti spirituali quelli che voleva mandare il governo vi ricordate due mesi fa gli allievi conventuali in realtà poi si sono qualificati erano esponenti della politica politicante e che volete volevano fare un giro turistico dentro l'ospedale il direttore generale ha fatto un comunicato con cui ha spiegato a questi signori che un ospedale è un luogo di sofferenza e di cura e di cura dove non si va a fare demagogia e passeggiate elettorali nessuno di nessun partito deve mettere piede negli ospedali nei reparti se vuoi avere un'informazione fissi l'appuntamento con il direttore generale vai nell'ufficio amministrativo del direttore chiedi tutto quello che vuoi chiedere bene erano venuti da lontano guidati da un esponente politico venuto da mille chilometri di distanza per fare una foto opportunity davanti al covid hospital che era dentro l'ospedale mi auguro che nelle prossime giornate si convincano che almeno gli ospedali sono luoghi da rispettare perché c'è gente che soffre oggi non viene consentito neanche ai familiari in alcuni casi di andarsene a passeggio figuriamoci ai politicanti voglio solo dire a un esponente politico che è venuto da lontano che lo invito pubblicamente a un dibattito sulla sanità campana se vuole a un confronto pubblico dove come vuole un confronto sulla sanità campana e su quella di qualche regione del nord sono pronto a un dibattito pubblico dove come quando vuole chiarito questo guarda io posso capire tutto ma uno quello di milano il venditore di cocco come sapete ma santo dio tu gestisci un partito che ha rubato 50 milioni di euro ai cittadini italiani 50 milioni devono restituirli in 80 anni voi quando fate un mutuo per la casa e vi fanno il mutuo a 80 anni no 80 anni uno toccando ferma e solo devi restituire i soldi ma soprattutto cioè tu per per anni e anni hai offeso la dignità dei meridionali dei campani dei napoletani ma come si fa a fare i maggiordomi di questo soggetto è una cosa incredibile io faccio veramente fatica c'è una cosa che si chiama dignità dignità che va al di là della politica